... Termina alle 20 di questa sera il pontificato di Benedetto XVI, l'annuncio da Castel Gandolfo dove il Papa volerà nel pomeriggio. Ieri l'ultima odienza in piazza San Pietro con 150.000 fedeli. Non abbandono la croce, ha detto Ratzinger, ma il resto in modo nuovo presso il Signore. Poi ha ringraziato i fedeli, non mi sono mai sentito solo. Giorgio Napolitano a Berlino annulla la cena con il leader socialdemocratico Steinbrück che aveva definito Berlusconi e Grillo due clown. Rispettiamo la Germania, ma esigiamo rispetto, dichiara il Capo dello Stato, che non ha digerito gli insulti tedeschi sul risultato delle elezioni. Il Capo dell'SPD poi telefona al Presidente scusandosi. Oggi l'incontro tra Napolitano e la cancelliera Angela Merkel. Beppe Grillo sbatte la porta in faccia a Bersani che lo aveva invitato a collaborare in Parlamento. Non votiamo la fiducia, sei un morto che parla, è la risposta del leader di 5 Stelle. Bersani contrattacca Grillo, venga a dire queste cose, anche gli insulti a Montecitorio. Intanto però migliaia di grillini chiedono sul web al loro leader un'intesa con la sinistra, mentre Berlusconi rilancia il governissimo, le forze responsabili, dice, diano un segnale di stabilità al Paese. Per fermare la guerra civile in Siria, che in due anni ha causato oltre 70.000 morti e far finire il regime di Assad, Barack Obama cambia strategia, la Casa Bianca è pronta a dare il via libera agli aiuti diretti ai ribelli. Il tour del neosegretario di Stato John Kerry da ieri a Roma, ma poi in Medio Oriente, lavora proprio in questa direzione. Le 7 e 28 minuti, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Dunque, ultime ore da Papa per Benedetto XVI, che nel pomeriggio lascerà San Pietro per trasferirsi nella residenza di Castel Gandolfo. Con l'evento in punto, con la chiusura del portone e con il passaggio di consegne tra le guardie svizzeri e la gendarmeria vaticana, terminerà così ufficialmente il suo pontificato. Ancora poche ore. Alle 11 Benedetto XVI saluterà i cardinali, poi il congedo dei più stretti collaboratori. Alle 5 del pomeriggio si allontanerà dal soglio pontificio, lascerà in elicottero la città del Vaticano diretto a Castel Gandolfo. Alle 8 della sera smetterà di essere Papa. Da quel momento sarà solo emerito. L'anello del pescatore, simbolo della sua autorità, sarà rotto. Il portone a Castel Gandolfo resterà chiuso. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifesso. È la promessa di Josef Ratzinger che finirà sui libri di storia. Parole pronunciate nel giorno del suo ultimo bagno di folla, l'ultima udienza del mercoledì nel sole di Piazza San Pietro, con i 150.000 fedeli accorsi da tutto il mondo, che più volte hanno interrotto, con i loro applausi, il Papa di transizione, che non può più reggere il peso del suo mandato e rimanere alla guida della barca di Pietro. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stesse. Sono commosso, la Chiesa è viva, ha detto ancora Ratzinger. Ancora poche ore e gli occhi del mondo saranno rivolti al conclave, la Pasqua è vicina. La dichiarazione di extra omnes, fuori tutti dalla Cappella Sistina, ad eccezione dei Cardinali, potrebbe arrivare già il prossimo 11 marzo. I porporati, in arrivo da ogni parte del pianeta, possono riunirsi anche prima dei 15 giorni canonici dalla fine del pontificato, come lo stesso Benedetto XVI ha stabilito, motu proprio. Un Papa di missionario, che nascosto al mondo, resterà in vita e al suo successore ha già lasciato in eredità il compito di portare la Chiesa Cattolica sofferente in una nuova era. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie, arriva da Taranto, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente all'Ilva di Taranto. A quanto si è saputo, ma insomma sono naturalmente le prime notizie che arrivano, l'incidente è avvenuto alla batteria 9 delle cocherie, naturalmente ve ne daremo conto nel corso del telegiornale. E adesso apriamo la pagina politica, dopo il risultato elettorale si comincia a parlare di possibili alleanze, Bersani tende la mano al Movimento 5 Stelle che replica e dice di non voler dare un voto di fiducia al Partito Democratico. Via blog Beppe Grillo respinge al mittente l'ipotesi di una collaborazione con il centrosinistra. Bersani è un morto che parla, uno stalker politico che da giorni sta importunando il Movimento 5 Stelle con proposte indecenti, di alle dimissioni come al suo posto farebbe chiunque altro. Il Movimento 5 Stelle non darà alcun voto di fiducia al PD né ad altri. Ma Grillo aggiunge, il Movimento voterà in aula le leggi che rispecchiano il suo programma, chiunque sia a proporle. Se Bersani vorrà proporre l'abolizione dei contributi pubblici ai partiti sin dalle ultime elezioni, lo voteremo di slancio. Se metterà in calendario il reddito di cittadinanza, lo voteremo con passione. Sul blog di Grillo si apre il dibattito. Tanti militanti gli chiedono di non sbattere la porta in faccia a Bersani, di sposare il modello Sicilia, dove 5 Stelle garantisce l'appoggio esterno al governatore Crocetta, che però non ha avuto bisogno di un voto di fiducia per insediarsi. Bersani replica a Grillo con una nota. Quel che ha da dirmi, insulti compresi, lo voglio sentire in Parlamento e ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Sfidare Grillo, stanarlo sui temi vestito del Movimento 5 Stelle, resta alla linea. L'unica praticabile, secondo Bersani, che guarda le aperture mostrate da alcuni neoletti di 5 Stelle, ancora in ordine sparso. Strada da tentare comunque, per incassare almeno la plateale dimostrazione che a 5 Stelle è opporsi a ogni forma d'intesa. Una drammatizzazione, con Grillo assente dall'aula perché non parlamentare, che presuppone il via libera, tutt'altro che probabile, di Napolitano a un tentativo al buio di Bersani per cercare una maggioranza. E di ora in ora nel PD cresce il fronte di chi, da Alema a Veltroni, vorrebbe un governo tecnico di larghe intese per l'emergenza e la legge elettorale con la benedizione del capo dello Stato. Ma anche il PD deve fare i conti con quegli elettori che sul web insorgono di fronte all'ipotesi di una ridizione con altri interpreti della Formula Monti o del governissimo con il PDL e vorrebbero piuttosto un'intesa con Grillo. Dunque, fin qui quello che accade nel centro-sinistra. Nel centro-destra Silvio Berlusconi torna a farsi sentire e lo fa con un videomessaggio nel quale invita le forze responsabili a dare un segnale di stabilità al Paese entro il 15 marzo. Il 15 marzo, vi ricordo, è stato convocato il Consiglio europeo. Vediamo. Nessuna forza politica responsabile può ignorare il valore della governabilità. Silvio Berlusconi, in un videomessaggio di ieri, conferma la linea del centro-destra, del dopo-voto e quindi il pressing sul PD per un nuovo governo di larghe intese, anche se, precisa, non si deve partire dalle alleanze, ma dalle cose da fare. Il Cavaliere insiste anche su un altro punto. Bisogna fare in fretta, bisogna anticipare anche i tempi dei passaggi istituzionali. È l'interlocutore ancora una volta il Partito Democratico che però al momento continua ad escludere ogni ipotesi d'intesa con il PDL. solo dopo che dal 15 marzo in poi saranno insediati i gruppi parlamentari ed eletti i Presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica potrà avviare le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Sono i tempi delle istituzioni, ma sono tempi troppo lunghi e per questo vogliamo riformarle. Se un messaggio di stabilità non verrà lanciato prima, rischiamo di pagare un prezzo troppo alto. Spetta alle forze politiche, continua Berlusconi, il compito di cominciare a dipanare la matassa della legislatura non ancora iniziata. E poi l'ex Premier fissa le priorità del futuro governo, riduzione delle spese, riduzione della pressione fiscale, conti in ordine per restare in Europa a testa alta e riforme istituzionali per rendere l'Italia una democrazia moderna. Ma il voto di domenica, lunedì scorsi, per l'ex Presidente del Consiglio è riuscito anche a svolgere un altro ruolo. È successo il pensionamento di alcuni vecchi mestieranti della politica politicante e questo non ci fa dispiacere. La bocciatura senza appello dei tecnici lontani dalla realtà del Paese. Il Cavaliere non rinuncia ad attaccare ancora gli ex competitor. Ho sentito dei leader parlare di un vago programma che riguarda la politica, la legalità, le elezioni, ma non hanno detto nulla su un tema cruciale come l'economia, le tasse e lo sviluppo. Ma dove vivono se non capiscono che il punto è questo? Prosegue la visita di Giorgio Napolitano che oggi incontrerà in Germania la cancelliera tedesca Angela Merkel. Intanto sembra rientrato lo strappo diplomatico tra i due Paesi provocato dalla GAF del leader socialdemocratico tedesco. Vediamo. Oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano incontrerà a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel. Al centro dei colloqui l'impegno italiano per la rapida formazione di un nuovo governo. Dopo che ieri si è sfiorato l'incidente diplomatico del nostro capo dello Stato, ha cancellato l'incontro previsto con il leader SPD, Stenbrook, candidato alla cancelleria che si era detto inorridito dal risultato delle votazioni italiane che hanno portato al potere due clown, Berlusconi e Grillo. Pur non mettendo ufficialmente in diretta correlazione la rinuncia all'incontro con le frasi pronunciate dall'esponente politico tedesco, Napolitano ha definito fuori luogo le valutazioni espresse. Noi rispettiamo la Germania ed esigiamo pertanto rispetto dalla Germania verso di noi. Il Presidente della Repubblica ha per Costituzione il mandato di rappresentare l'unità nazionale e penso che non sia molto diverso dal rappresentare la dignità nazionale, ha detto Napolitano incontrando la comunità italiana. Valutazioni ben diverse erano state espresse sull'Italia del dopo urne da altri esponenti della politica tedesca. Primo tra tutti il Ministro delle Finanze Schäuble che si è limitato ad esprimere una forte perplessità sul perdurare dell'incertezza in Italia auspicando un rapido concretizzarsi di un nuovo governo nel nostro paese. Con l'Italia più che mai osservato speciale dalla Germania e dall'Europa non è un mistero che il Capo dello Stato rappresenti un punto fermo fondamentale per Berlino ha un ruolo centrale in questa fase e darà le sue valutazioni, ha detto il portavoce della Merkel. E ieri Napolitano, pur non parlando di questioni italiane, aveva lanciato un allarme. Sono preoccupato per il populismo, conseguenza degli errori della classe politica. Corriamo il rischio di un deficit di democrazia. Allora, lo sapete, il risultato del voto ha fatto trasparire una certa inestabilità del nostro paese, una cosa questa che temono i mercati e che temono i nostri partner europei. Ieri il premier uscente Mario Monti è volato a Bruxelles proprio per tranquillizzarli ed ha incontrato il presidente della Commissione, Barroso. Sentiamo cosa si sono detti. Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha espresso al premier Mario Monti la sua piena fiducia che l'Italia assicurerà le condizioni della stabilità politica nell'interesse dell'Italia e dell'Europa. Una scarna dichiarazione scritta al termine di 90 minuti di colloquio a Bruxelles, 90 minuti nel corso dei quali il premier uscente Mario Monti, ufficialmente nella capitale belga per delle consultazioni in vista del vertice europeo di marzo, ha cercato di tranquillizzare il suo interlocutore sulla situazione politica italiana e sullo stallo post-voto, sullo sfondo del quale si staglia la sagoma di Beppe Grillo che terrorizza l'Europa e rischia di spazzarne via gli argini politici. Già, perché il rischio paventato da tutti in questo momento è riassumibile in una parola, contagio. Una parola pronunciata ieri anche da Wolfgang Schäuble. Il risultato, inconcludente, delle elezioni italiane rischia di far scoppiare una nuova tempesta sui mercati. Questo, l'allarme lanciato dal ministro delle finanze tedesco, un contagio che rischia di travolgere la moneta unica definita ieri dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi uno strumento di pace e prosperità e che, da economico, rischia seriamente di diventare politico vista l'ormai diffusa ostilità nei confronti delle ricette rigoriste promosse dall'Europa. Tanto più che ora la Germania, perso un prezioso alleato come Monti, si ritrova certamente più isolata, per quanto non meno influente. Sarà comunque il Consiglio Europeo del 14 e 15 marzo a dirci se e quanto le elezioni italiane abbiano cambiato le carte in tavola. Una data, quella del 15 marzo, che coincide proprio con la prima seduta del nuovo Parlamento alla quale, ironia della sorte, il presidente del Consiglio uscente e sconfitto alle elezioni non potrà partecipare perché è impegnato a Bruxelles. Ieri, intanto, i mercati hanno cercato e trovato un rimbalzo anche sulla scia del risultato non così negativo dell'asta di BTP a 5 e 10 anni. Buona la domanda e tassi che, per quanto il rialzo, non hanno sfondato, per quanto riguarda i decennali, la soglia psicologica del 5%. Anche lo spread non ha conosciuto nuove e più dolorose recrudescenze. Vedremo come andrà oggi. E allora, avete sentito, vedremo come andrà oggi. Quindi gli occhi sono puntati proprio sull'apertura delle borse. Ieri, dopo il tonfo di martedì del giorno prima, tutti i mercati europei sono stati caratterizzati dal cosiddetto rimbalzo. Piazza Affari ha guadagnato l'1,77%. Occhi puntati, naturalmente, anche sullo spread che sembra aver fermato la sua corsa, attestandosi attorno a quota 340 punti. Ed ora l'inchiesta finmeccanica. È stato interrogato dai pubblici ministeri per otto ore. L'ex amministratore delegato Orsi, l'ex manager in carcere da 17 giugno, ha ribadito che nella vicenda dei 12 elicotteri venduti all'India non sono state pagate tangenti. Nove ore di interrogatorio nelle quali Giuseppe Orsi, ex amministratore delegato del gruppo Finmeccanica, ora detenuto presso il carcere di Busto Arsizio, sarebbe rimasto sempre fedele alla sua linea. Non ci sono state interferenze nella gara che ha visto il governo indiano assegnare ad Agusta Westland la fornitura di 12 elicotteri destinati all'aviazione militare. Lo ha detto il legale del manager Ennio Amodio, il quale ha anche ribadito che non si è parlato delle tangenti dalla Lega Nord, sì, proprio il carroccio che lo stesso Orsi avrebbe indicato in una intercettazione come principale sponsor della sua nomina ai vertici di Finmeccanica. Sempre il legale dell'ex dirigente, ha concluso dicendo che è stato un colloquio sereno e lungo perché sono stati fatti numerosi approfondimenti. Una vicenda che ha come protagonista Finmeccanica ha accusato di aver pagato una presunta tangente di 51 milioni per la vendita di 12 elicotteri Agusta Westland al governo indiano. Ed ecco spuntare il nome di Guido Asche, accusato di essere il mediatore della tangente con l'India. Nell'interrogatorio si sarebbe parlato anche del suo ruolo, anche se secondo il legale del supermanager i lavori affidati all'intermediario non avrebbero avuto nulla a che fare con la gara indiana. E intanto in India questa vicenda sta provocando un vero e proprio terremoto. Il partito del congresso al governo è sottoposto a duri attacchi ed è intenzionato ad andare in fondo alla questione. Il primo ministro della difesa dello Stato indiano ha minacciato azioni punitive nei confronti della società italiana se verranno confermate le accuse. C'è il rischio che il mega palto da 560 milioni venga bloccato e che il governo di Nuova Delhi chieda un risarcimento. Per questo è stata istituita dal Senato indiano una commissione di inchiesta di 30 membri che dovrà fare luce sulla questione in tre mesi. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato Pier Giorgio Baita amministratore delegato della società Mantovani in presa di costruzioni tra le più importanti del nord-est. Questa è una notizia appena abbattuta dalle agenzie. Secondo giorno di visita in Italia per John Kerry il segretario di Stato americano ha parlato della situazione che si è determinata con il voto nel nostro paese e naturalmente anche però della Siria di quello che succederà e quello che bisognerà fare nelle prossime settimane per la Siria. Vediamo. Accelerare una possibile soluzione della crisi siriana per porre fine ad un conflitto che in due anni ha causato oltre 70.000 vittime. È questo l'obiettivo ambizioso ma oramai improrogabile della conferenza sulla Siria che si apre tra poche ore a Roma. A dettare l'agenda è un piano degli Stati Uniti che punta a rovesciare il regime di Bashar al-Assad schierandosi al fianco dei ribelli. L'amministrazione Obama vorrebbe così imprimere una svolta alla sua politica e all'approccio della comunità internazionale nei confronti della Siria. Per questo la Casa Bianca sarebbe pronta a dare il via libera ad aiuti diretti all'opposizione nel paese arabo. Piano che ha già ricevuto il via libera di Parigi dove ieri, prima di volare a Roma, il nuovo segretario di Stato americano John Kerry ha sottolineato la necessità di accelerare la transizione in Siria intensificando il sostegno a chi combatte contro il regime. Per ora non si parla di armare direttamente i ribelli. Il primo passo sarà fornire aiuti umanitari, cibo e medicinali ai civili siriani, ma i veicoli blindati potrebbero arrivare subito dopo. Il nuovo capo della diplomazia americana ha incontrato ieri sera a Roma il segretario generale della NATO Rasmussen, ma quella italiana sarà soltanto una tappa del lungo tour che lo porterà nelle principali capitali europee e del mondo arabo e dal quale Obama si aspetta al suo ritorno il via libera ad una svolta anti-Assad. In queste ore però il capo della Casa Bianca è alle prese con un'altra questione spinosa. Italia è la spesa pubblica per 85 miliardi di dollari che scatteranno automaticamente domani a meno che democratici e repubblicani non trovino un accordo. Per questo Obama incontrerà i leader del congresso cercando un'intesa prima che una rottura comprometta la ripresa americana. Sono costati due turni a porte chiuse i cori razzisti neggiati dalla tifoseria laziale durante l'incontro con il Borussia il presidente della società Bianco-Azzurra però ha già preannunciato il ricorso. Un provvedimento abnorme rispetto alla realtà in questo sfogo c'è tutta l'indignazione del presidente Lotito dopo la decisione dell'UEFA di penalizzare il club con due turni a porte chiuse nelle competizioni europee. La Lazio giocherà senza pubblico il ritorno degli ottavi d'Europa League contro lo Stoccarda il 14 marzo all'Olimpico. In caso di qualificazione anche un secondo turno casalingo. Durante l'incontro con il Borussia a Mönchengladbach gli ispettori UEFA hanno rilevato comportamenti offensivi e razzisti oltre ai cori anche il saluto fascista nella curva. In quella serata c'erano stati anche tre accoltellati tra i tifosi tedeschi. La stangata per la Lazio è arrivata dopo il quarto deferimento quattro cartellini gialli sempre per lo stesso motivo il razzismo della tifoseria. La sanzione alleggiava fin da quando il 21 novembre c'era stato l'attacco ai supporter inglesi del Tottenham alla vigilia della partita in un pub del centro. Un episodio che aveva lasciato il segno e questa decisione dell'UEFA giunge come una conseguenza inevitabile. Si parla anche di una multa di 40.000 euro. Inutile la memoria difensiva della società che non ha convinto i giudici di Neon. Il presidente Lottito annuncia il ricorso ma non punta l'indice sulla severità dell'organismo europeo. Per il presidente è importante la capacità di attuare le pene per danni effettivamente procurati. Si fa notare inoltre che le autorità di pubblica sicurezza della capitale non hanno riscontrato gli episodi che si sarebbero configurati come reato. Lottito sottolinea la civiltà della tifoseria e ribadisce l'impegno contro il razzismo da parte del club che non può avere responsabilità sui comportamenti dei singoli. La Lazio ha già pagato i burrazzisti nel 2005 giocando senza pubblico contro i finlandesi del Tampere. E prima di chiudere un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato l'incidente mortale all'ilva di Taranto l'operaio morto si chiamava Ciro Mocci aveva 42 anni l'altro lavoratore è rimasto gravemente ferito invece si chiama Antonio Liti a quanto si è saputo per ora i due sarebbero caduti mentre erano insieme al lavoro sul piano di carico della batteria numero 9 delle cocherie. Naturalmente come vi ho detto ve ne daremo conto nel corso della prossima edizione quella delle 13.30 adesso subito dopo la pubblicità ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e subito dopo il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancania. Tutti voi una buona giornata grazie ci vediamo domani.